Colpo allo spaccio di droga nel Salernitano. L'operazione Coffee Break è stata messa a segno dai carabinieri di Sala Consilina, diretti dal comandante Davide Acquaviva, che hanno eseguito in tutta la provincia di Salerno, insieme a personale del nucleo cinofili carabinieri di Sarno e al settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di otto persone, ritenute appartenenti a un gruppo malavitoso attivo tra la Piana del Sele e il Vallo di Diano. Nei guai un 45enne di Teggiano, una trentenne di Atena Lucana, una donna rumena 44enne residente a Teggiano e cinque cittadini marocchini, due residenti a Teggiano e uno a Eboli. L'organizzazione criminale gestirebbe il rifornimento e la vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti sul territorio, per lo più cannabis e cocaina. Il provvedimento arriva in seguito alle indagini coordinate dalla Procura di Lago Negro, che hanno ricostruito l'organizzazione e i vari ruoli tenuti al suo interno dai singoli indagati, il tutto documentato da centinaia di episodi di spaccio di droga. I fatti risalirebbero agli inizi del 2018. Nell'operazione sono stati sequestrati oltre un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti.